hanno scelto i migliori allievi di una classe tipo viene fuori l'allievo migliore e chiede chi ha preso portapia chi ha preso portapia che ragazzo fa non l'ho presa io da questo ispettore va dal maestro che dice come faccio da una domanda chi ha preso portapia il ragazzo mi risponde che non l'ha preso lui ma signor ispettore che fa il maestro gli giuro un ragazzo di buona famiglia che giuro che quella porta non gliela ha portata via nessuno vado al preside e fa l'allievo mi risponde così il maestro mi risponde così chiedo chi ha preso portapia e nessuno mi sa rispondere e pensi che fa signor ispettore dito fra noi mi dici quanto costa portapia che la pago